Catapultiamoci nel mondo degli Atomicron! Dobbiamo studiare un piano per distruggere i cattivi dell'antimateria. E' subito! Ma... Ferrox è in città! Dobbiamo riunire tutti i buoni della materia per fare un piano per distruggere i cattivi dell'antimateria. Nel frattempo, da un'altra parte... Dobbiamo distruggere i cattivi! Ma come, come, se non abbiamo un piano? Non ci avevo pensato! Ferrox dell'antimateria parla con Arsenicon dell'antimateria. Ci vorranno attaccare, dobbiamo difenderci. Sì, ma come, se le truppe sono andate in vacanza? Ah, non ci avevo pensato! Ma... Un Atomicron si catapulta! Brrrr! Brrrr! E' la fine per voi dell'antimateria! Il capo del fuoco non perdona! La battaglia è pazzesca! Attacchiamo senza pietà! Nemmeno la catapulta perdona! Tirate colpi all'impazzata! Brrrr! 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 Crac, crac! Brrrr! 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 Un grande punto esclamativo! Ma... cosa c'entra una banana dei Minions? Fine del primo pezzo! Brrrr! 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 Grazie a tutti.